Ecografia salvavita non più mutuabile, critica, l'associazione difesa diritti del malato. Zaia sulla sentenza dei vaccini della Corte Costituzionale abbiamo difeso la nostra legge. Un'associazione di risparmiatori la prossima settimana, Ginevra porterà il crack BPV all'ONU. Amministrative il Movimento 5 Stelle al suo primo candidato parteciperà alle comunali. Le chiameggiali arrestano un tunisino con mezzo chilo di Aschis, era già stato espulso. Sport, il calcio, primo test per il nuovo allenatore del Vicenza, match difficile contro il FURDENO. Buonasera, questa è l'edizione di TG Vicenza, ben ritrovati come sempre in diretta con l'informazione di Rete Veneta. In apertura torniamo sulla sanità dopo lo scandalo dello sciopero dei medici e quello sulle ecografie mammarie non più mutuabili. Parla l'associazione che opera da sempre in difesa del malato. Anche i camici bianchi piangono. Corre veloce sul web la denuncia dei giovani medici pagati 10 euro all'ora quando va bene, perché poi c'è chi è stato compensato con pizza, birra e tanti saluti. Loro sono i giovani medici antisfruttamento che su Facebook hanno fondato questo gruppo per testimoniare problemi grandi e guadagni magri ben lontani da quelli di un dottore di famiglia Veneto che con 1.500 assistiti alle ULS costa 107.015 euro all'anno. Cifre importanti per una categoria privilegiata che però oggi si permette il lusso di protestare chiudendo le porte in faccia ai pazienti e blindando gli ambulatori a intermittenza fino a 81 giorni. A noi pare che il malato invece debba essere messo al primo posto e lo diciamo anche alla sanità regionale che con questa delibera ha sancito che l'ecografia mammaria non è più mutuabile. Eppure stiamo parlando di un esame salvavita capace di individuare anomalie che alla semplice mammografia possono sfuggire. La prevenzione deve essere un diritto di tutti e non solo di chi ha le possibilità economiche per accedervi privatamente. È strano che una volta una persona etichettata a 048 del codice esenzioni abbia tutto e un attimo prima non ce l'abbia. Questo mi pare un po' strano. I dubbi interpretativi di un'indagine, se devono essere accompagnati da ulteriori indagini per dirimere il dubbio, credo che possano essere parte del pacchetto di screening, questo senz'altro. Su questo fronte si scatena anche l'Associazione Difesa Diritti del Malato. Non è possibile che il medico di base possa prescrivere l'ecografia solo alle pazienti nella fascia d'età tra i 50 e i 60 anni che hanno fatto già la mammografia e che presentano sintomi specifici. Oltretutto così si innesca un'altra visita, un altro appuntamento, un'altra lista d'attesa, quando invece il tempo in questi casi può fare la differenza tra la vita e la morte. Allora, questo è quello che sta accadendo nella nostra regione. Da qui il tema del nostro TG linea aperta della settimana. Compensi d'oro e i medici di base nel frattempo. La sanità taglia esami che scoprono il tumore al seno. Diteci come sempre la vostra utilizzando i contatti che vedete in questo momento in sovraimpressione. Parliamo adesso di vaccini il giorno dopo lo stop della Corte Costituzionale al ricorso della regione. Veneto sui vaccini obbligatori parla il governatore Luca Zaia. Noi rispettiamo le sentenze, però è bene chiarire a tutti i cittadini che il Veneto non è mai stato no-vax. Il Veneto ha presentato il suo ricorso per difendere la sua legge. La regione del Veneto era l'unica regione in Italia che da dieci anni aveva una legge sul non obbligo vaccinale. È corretto però informare bene i cittadini. Non è vero che oggi abbiamo una legge che obbliga al 100%. Da un obbligo vaccinale i bimbi nelle scuole dell'infanzia dai 0 ai 6 anni, i quali se non saranno vaccinati a marzo se dovranno tornare a casa dalle scuole dell'infanzia. Ma nelle scuole dell'obbligo dai 6 ai 16 anni, i ragazzi non vaccinati continueranno comunque ad andare a scuola. Ma che popolari venete un altro tema caro. I nostri notiziari, iniziativa senza precedenti di un'associazione. Sentite. La maledizione del crack BPV, vite a brandelli. Dopo aver perso poco, molto o persino tutto, i risparmiatori oggi combattono una guerra politica e giudiziaria tra proteste di piazza e il tentativo disperato di riuscire a recuperare qualcosa. Così a 19 giorni dal maxiprocesso del 12 dicembre, con protagonisti 7 imputati, tra cui l'ex presidentissimo Gianni Zonin, è partita alla corsa per costituirsi parte civile, ma anche quella per insinuarsi al passivo, condizione necessaria per poter accedere al fondo vittime da reati finanziari per il risarcimento delle perdite subite. Sì, l'insinuazione al passivo bisogna farla il primo possibile entro gennaio. Per chi vuole insinuarsi al passivo, l'associazione Zelino Terzo da Onara suggerisce di accedere al sito in sovraimpressione e compilare l'apposito modulo. E intanto Patrizio Miatello si prepara a partire per Ginevra, la sua è un'iniziativa senza precedenti, portare all'ONU il crack delle popolari venete. Andiamo all'ONU, a Ginevra, in quanto vogliamo portare questa vicenda del crack delle banche popolari venete che sarà un esempio per l'Europa e per il mondo, perché noi siamo fiduciosi che la politica che si è ravveduta in questi ultimi periodi troverà una soluzione per il risparmio tradito e sarà un esempio per tutto il mondo. Quindi insomma la politica italiana è davanti alla vetrina del mondo? Ebbè certo e quindi noi siamo solo fiduciosi che ci faranno fare bella figura. La politica adesso con il primo candidato parteciperà ovviamente alle comunarie e stiamo parlando del Movimento 5 Stelle e delle amministrative beriche 2018. Mi chiamo Francesco Di Bartolo, ho 62 anni, esercito l'attività di avvocato a Vicenza. È lui il primo di quella che i pentestellati confidano, diventi una rosa di candidati che se la dovrà vedere alle comunarie 2018 per la poltrona di sindaco di Vicenza. Di Bartolo, siciliano di origine nel capoluogo berico dal 79, ne diventa residente dall'83, sposato e padre di tre figli, avvocato di professione, scrittore nel tempo libero, docente e sommelier per diletto. Non nuovo l'attività politica, fino al 2005 è stato segretario in città dell'Italia dei Valori. Poi la folgorazione sulla via dei 5 Stelle di Beppe Grillo, di cui non nasconde di essere un grande fan. È tra i primi iscritti al blog del Comico Politico, da cui poi all'attivismo nel Movimento 5 Stelle il passo è breve, fino all'iscrizione l'anno scorso alla piattaforma del Movimento e d'oggi la candidatura. Perché? Bisogna anche andare oltre le parole e quindi bisogna rimboccarsi le maniche, darsi da fare, metterci la faccia e realizzare anche quelle che sono le cose che diciamo. Lavoro da fare ce n'è, spiega dal welfare l'ambiente e la sicurezza, ma il cavallo di battaglia sarà la partecipazione. Noi vogliamo che lo statuto recepisca questa nuova sensibilità da parte dei cittadini. Andremo a istituire un sistema che permetterà ai cittadini e alla popolazione di essere, diciamo, protagonisti all'interno del palazzo comunale. Allora apriamo adesso la pagina della cronaca, l'operazione della Guardia di Finanza che ha arrestato un tunisino per droga. È stato il cane Zak a incastrare il trafficante di droga. Al casello di Vicenza Ovest le fiamme gialle fermano un pullman arrivato da Milano. Durante i controlli uno dei viaggiatori, un tunisino, nervosamente cerca di cambiare posto. Una mossa che non passa inosservata né ai finanzieri né al cane antidroga Zak che fiuta nel bagaglio del passeggero magrebino mezzo chilo di hashish. Il 45enne nordafricano, tempo fa, era già stato accompagnato alla frontiera e poi espulso, ma lui evidentemente è già rientrato un'altra volta in Italia. Le indagini proseguiranno per individuare la filiera del traffico di droga. Ancora sicurezza questa volta invece all'Alto Vicentino nel mirino delle Forze dell'Ordine. Alto Vicentino al setaccio con comitanti operazioni di questura con Polizia Municipale e dei Carabinieri contro lo spaccio e la microcriminalità identificate dalla Polizia 28 persone di cui 9 con precedenti avviate per un nordafricano le procedure per l'espulsione e per un altro si sono aperte le porte del centro per il rimpatrio di Bari. Arrestato un trentenne gambiano irregolare per spaccio e blizza dei Carabinieri invece in un appartamento in una frazione di schio di richiedenti asilo è diventato di fatto centro di smercio di varie sostanze stupefacenti. Per tre nigeriani di 23 e 24 anni sono scattate le manette ma uno solo finisce in carcere e degli altri si perdono le tracce. Denunciato un albanese accusato di truffa ad un commerciante aveva comprato nove stufe a pallets ma al momento del saldo era sparito. Sono accusati di avere compiuto almeno una trentina di furti in tutto il Veneto un altro arresto, si tratta di tre albanesi. Avrebbero messo a segno una raffica di raid nelle case di tutto il Vicentino per poi fuggire su una mini rubata a Cittadella. Si tratta dei due fratelli dell'albanese alla guida della famosa Audi gialla che l'inverno scorso mise a ferro e fuoco il Veneto. I due, con un altro albanese, sono accusati di aver fatto razzie da Tiene a Zuliano e Costa Bissara fino a Bolzano Vicentino, Torri di Quartesolo e Villa Verla per poi spingersi nel Bassanese. Arrestati dai Carabinieri adesso il loro caso passa sotto la competenza della Procura di Vicenza. L'attitante con un mandato di cattura internazionale è stato preso proprio nel Vicentino. Trentottenne fuggito dall'Ucraina dove era accusato di furto pluriaggravato e rapine aveva trovato rifugio dal fratello nel Vicentino, ma ad inseguirlo vi era un mandato di cattura internazionale. La polizia lo ha individuato durante un controllo del casello di Vicenza Ovest ed è scattato le manette. Nel 2011 il Trentottenne era stato arrestato dalla Questura Berica sempre in ottemperanza del mandato di cattura, ma dopo 40 giorni di carcere l'Ucraino, che si era appellato, era stato rilasciato. Allora adesso torniamo invece in centro città. Ancora la cronaca in corso palladio. Nella notte è stato svaleggiato un negozio di occhiali. Malviventi in azione in pieno centro a Vicenza, preso di mila negozio Vision, ottica piccolo, in corso palladio. I ladri sono entrati in azione alle 3 di notte. Dopo aver forzato una porta si sono impossessati di occhiali di varie marche per un valore di circa 50.000 euro. I ladri però sono stati disturbati dall'arrivo di una guardia giurata che ha dato l'allarme costringendo la banda a darsi alla fuga, abbandonando uno dei due sacchetti contenenti la merce trafugata. Il bottino, secondo una prima stima, si aggirerebbe sui 25.000 euro. Sul posto i carabinieri che ora sono al lavoro per visionare i filmati e la videosorveglianza, la ricerca di elementi utili ad identificare i colpevoli. Invece episodi di tensione in questura questo pomeriggio. Una donna ubriaca ed evidentemente anche drogata, dato di matto, poi è stata denunciata. Pomeriggio concitato in questura a Vicenza dove una 39enne si è recata per sporgere una denuncia. La donna però, sotto il probabile effetto di alcol e droga in Tascale, verrà trovata una piccola quantità di marijuana, ha cominciato ad imprecare contro gli agenti e a molestare le persone inattese, non crescendo sempre più aggressivo. Così, agli agenti accorsi per calmarla, non è rimasto che, anziché verbalizzare quanto aveva da dire, denunciarla per resistenza e ubriachezza molesta. Adesso invece torniamo a parlare di Bocconi e Velenati a Costa Bissara. Costa Bissara è caccia al killer degli animali domestici. Dopo i casi dei mesi scorsi, l'ennesimo avvelenamento. Due cani sono stati uccisi da polpette mischiate con metaldeide. A causa di questi Bocconi letali, altri due cani sono in gravi condizioni. Intanto il comune da tempo ha messo in guardia i proprietari con dei cartelli. Siamo al calcio adesso, da temporaneo di fatto il suo contratto diventa definitivo. Vi presentiamo il nuovo allenatore del Vicenza Calcio. Il Vicenza Calcio presenta il nuovo allenatore, che ora non è più a tempo, ma definitivo. Lo ha confermato questa mattina lo stesso presidente Pioppi in conferenza stampa, spiegando che in questo momento le ricerche per un sostituto di Colombo sono interrotte. Quindi piena fiducia al nuovo mister Danini. È necessario dare tranquillità alla squadra e gestire le cose nella semplicità, perché la qualità come dicevo prima c'è, non si è ancora vista e espressa al 100%, quindi secondo me un allenatore che può interagire più facilmente con i suoi quasi colleghi, perché per l'età non c'è molta differenza tra certi senatori della squadra e Nicola, può essere un valore aggiunto. Il mister che oggi ha preso le redine della squadra, reduce da un periodo molto difficile. La fiducia nei giocatori è massima. Io ho avuto una grande disponibilità da parte di tutti i ragazzi, abbiamo parlato in questi giorni, con il tempo che abbiamo potuto avere, perché alla fine sono solo due giorni, però sono dei grandi professionisti anche loro, sanno come stanno le cose, e quindi dobbiamo assolutamente compattarci e andare tutti insieme ad affrontare queste battaglie. La partita di domani contro il Pordenone sarà la prima prova per il neo mister, una gara da affrontare con la massima responsabilità, come tutte le prossime, un passo alla volta. Non ha senso in questo momento fare programmi e tutto, abbiamo la possibilità, ripeto, di far bene, e dobbiamo però dimostrarlo oltre che dirlo. Quindi questo è il nostro obiettivo in questo momento. Allora, bocca al lupo alla squadra e ovviamente anche al nuovo mister. Noi ci fermiamo qui, questo era l'ultimo servizio. Vi ricordo le 21.20, l'appuntamento con l'informazione di Focus. Questa è la serata dedicata ai Veneti schiacciati dalla crisi. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buona serata con Rete Veneta. Arrivederci. Le previsioni per domani. Cielo da parzialmente nuvoloso a molto nuvoloso nella seconda parte della giornata. Foschie e nebbie in pianura e possibili nubi basse su Prealpi e Pedemontana, specie nelle ore più fredde. Precipitazioni assenti, temperature stazionarie o in locale lieve aumento nei valori massimi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.